E' stata presentata questa mattina durante un incontro con la stampa la tavola rotonda pari sensibilità promossa in concomitanza con la giornata mondiale contro la violenza sulle donne che si darà sabato 26 novembre alle 11 all'Istituto Tecnico Commerciale Luigi Sturzo. Sarà un'occasione per lanciare un nuovo appello contro le prevaricazioni sull'assesso debole che a Gela trovano un valido strumento di contrasto nello sportello comunale Angelas che ha saputo mettere in rete le migliori sensibilità del territorio. Lo dice l'assessore dei servizi sociali Ligia Abela. Sensibilizzare nuovamente l'opinione pubblica le donne non solo sul tema della violenza, la violenza intesa non solo come violenza fisica ma come violenza anche psicologica oltre che emotiva oltre che economica. Dare alle donne la possibilità di attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla pubblica amministrazione di poter uscire dall'impasse e quindi andare avanti e riconoscere questi momenti di violenza in maniera chiara per poter continuare ad andare avanti nella propria vita. Quindi fare in modo che questi episodi siano semplicemente una breve contingenza della vita di ciascuna delle donne coinvolte per poi ovviamente continuare a poter andare avanti. Presente questa mattina anche il Presidente del Consiglio Comunale Alessandra Acia. Rilevando che lo sportello Angelas purtroppo non riesce a decollare come giusto merita, allora è necessario intraprendere una serie di iniziative non solo a livello di pubblicità mediatica ma a livello di contenuti e quindi attraverso queste tavole rotonde e degli incontri, quindi avendo dei condotti diretti soprattutto per esempio con i giovani che sono il futuro di una cultura che deve essere basata sulla pari sensibilità. Questo è infatti il titolo che abbiamo dato anche all'incontro del 26 novembre, pari sensibilità, perché vogliamo che laddove vi siano qualunque tipo di difficoltà all'interno delle mura familiari di non dover accettare e pensare che siano cose normali ma spingerli e dunque educarli a quella che è la denuncia chiedendo l'aiuto di un non supporto e di tecnici qualificati. Purtroppo questa è una tematica molto delicata ma noi non demordiamo e abbiamo intenzione di intraprendere una serie di iniziative al fine di aiutare tutti coloro che ne hanno bisogno per superare questo enorme problema.